Levante, vi ricordiamo, è rimasta attualmente con una sola cantante, la controversa Rita Bellanza. Partita come super favorita, Rita è stata piano piano ridimensionata fino a diventare una delle concorrenti meno apprezzate dal pubblico. Secondo quanto rivelato da Levante, nella terza puntata di X Factor Rita Bellanza dovrà cimentarsi con un brano in portoghese. Stiamo parlando di Aguas de Marco di Elis Regina. In occasione della stessa puntata del Daily, abbiamo anche scoperto che l'inedito di Rita Bellanza è stato scritto dalla stessa Levante. Non preoccupatevi se non avete a disposizione un abbonamento Sky. Vi informiamo che grazie al servizio NOV potrete vedere X Factor in streaming gratuitamente. Per poter accedere al servizio vi invitiamo ad iscrivervi al sito e attivare la prova gratuita di 14 giorni. Una volta terminate le due settimane di prova gratuita potrete eventualmente decidere se attivare o meno una delle offerte a pagamento previste, cliccate qui per maggiori info. Vi ricordiamo ovviamente che X Factor sarà disponibile su dispositivi mobile e laptop per tutti gli utenti che hanno attivato l'offerta Schigo.